No, Natalia, per incorpore la sfida, l'ultima volta è stato scusato. Il Paese è stato scusato. Vedi che c'è qui? E' una rivista. Noi ci chiamano, ci chiamano. Adesso non ci chiamano. Non è ancora scritto niente. Comunque Silvano, se si riesce è meglio stare in quello della montagna. Se si riesce è meglio stare in quello della montagna.